Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul canale Giannarte ASMR. E oggi andremo a vedere tutti i Paper Squishy che ho creato in questi ultimi due mesi. Come sempre lasciate un like, un commentino e condividete, grazie. Mi raccomando, se ancora non l'avete fatto, oppure per chi non lo sapesse, io faccio le live su TikTok dove mostro gli Squishy e faccio varie tipologie di suoni con essi, tra quali anche il trigger speciale. Venite a seguirmi TikTok Giannarte ASMR, troverete i link anche qui in descrizione del video. Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul canale Giannarte ASMR. Oggi andrò a mostrarvi un qualcosa che praticamente ho ricreato da due mesi, da aprile 2024. Ossia i nostri amati, che ormai stanno spopolando pure su TikTok, Paper Squishy, interamente creati da me. Guardate quanti ne sono, ne sono tantissimi. Le scarpe, oggetti vari, Coca-Cola, gocciole. Tantissimi, tanti, 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 Game Boy Color, le Fonsies, questo qui, come si chiama lo shampoo, ne sono tantissimi. Quindi adesso andiamo a vedere un'anteprima di tutti quelli che ho creato negli ultimi due mesi fino ad oggi. Ecco qui, guardate, tutti, tutti i miei Paper Squishy. E guardate, li ho voluti tutti mettere in bella vista, tutti i miei Paper Squishy interamente creati da me. Guardate qui, ne ho fatti di tutte le tipologie, ma proprio tante. Soprattutto cibo, come queste patatine da McDonald's, uno degli ultimi che ho amato fare. Ma anche oggetti elettronici, come questo Game Boy, oppure le lattine, shampoo, videogiochi, dentifricio. Saponetta, cellulare, quella è la mia vecchia cellulare. Ecco qua, Wonka che ho utilizzato per la collaborazione con il River SMR, andate a vedere i consigli su suo canale. Ecco qua, Scarpa, Adidas, questa è proprio come la mia che ho fatto, proprio per me ce l'ho reale. Ecco, anche il retro, ecco una cosa che adoro fare è anche il retro di ogni Paper Squishy. Tra i più dettagliati ci sono questo delle gocciole. M&M, poi farò anche quello blu dell'M&M. Ciambellina, tempo, questi secondo me sono quelli che sono usciti più uguali. Non ci fate caso, quel cubo mi serve quando faccio le live per i Paper Squishy e cose varie, insomma. Questo è l'iPhone 15 Pro. E quindi, ecco qui a voi la visuale. Allora, iniziamo con i più grandi che ho fatto e che voglio mostrarvi e riprodurre. Le Pringles! Questo è quello che ci ho messo veramente tantissimo, tantissima ovatta. Come sono fatti innanzitutto? Sono semplicemente fatti di carta, pennarelli e pastelli disegnati ovviamente con penne, pennarelli e pastelli. Nastro adesivo per rivestirli, quindi plastificarli e lasciare fare questi suoni di crinkles incredibili. Ed infine, imbottitura ovatta, chiamata anche cotone, oppure imbottitura per cuscini. E ne viene fuori questo. Guardate qui, fronte, retro. Andiamo con il prossimo. Un altro tra i più grandi che ho fatto sono le gocciole. Goccio, gocciole. Guardate qui, la cosa che mi piace tantissimo fare è riprodurli il più possibile fedeli, uguali a quelli originali. Guardate qui, fronte, retro. E' retro. Andiamo con il prossimo. Un altro tra i più grandi che ho fatto. Le scarpe adidas che sono anche fatte proprio pochi giorni fa. Guardate qui, adidas. Di questo ho preso le misure di quella che ho io, davvero, quelle vere ce le ho uguali. Solo che sono venute leggermente più grandi, però comunque, guardate qui, tutto fatto a mano, fatto a mano. Il retro. Ed è stato bellissimo, bellissimo. Sono molto soddisfatto. Comunque, se ancora non l'avete fatto, seguitemi anche su TikTok perché lì faccio le live e ve li mostro con dei trigger speciali. Speciali, sì. Uno tra i più apprezzati, anche abbastanza grande, sono questi, i pennarelli Giotto. Riguardo come creare queste cose, potete vedere il tutorial Art Attack ASMR Gianni Mucciaccia. Art Attack ASMR Gianni Mucciaccia. Guardate questi, fronte, retro, tutte le varie parti che ho fatto. E poi le domande più gettonate, come fai a farli? Quanto tempo ci metti? Qual è il più difficile? Allora, intanto vi rispondo. In genere ci metto minimo 15 o mezz'ora di minuti, ma solitamente per quelli più elaborati anche 2 ore, 3 ore, 10 ore. Ovviamente non di seguito, a volte 2 ore di seguito, sì. Perché se non mi impiegano tanto. Questo è stato il primo proprio in assoluto che ho fatto, che potete trovare il tutorial identico e preciso su Art Attack ASMR, appunto. proprio come creare questo panco di fonzi. Se non ti leghi le dita, godi solo a metà fronte e retto. Poi, altre domande gettonate che voglio rispondere. Quindi quanto tempo ci metto? Poi aspettate. Allora, andiamo avanti con le altre patatine. Quindi dicevamo, quanto tempo ci metto? Come faccio a farli? Quindi, ripeto, basta avere molta, molta pazienza questi materiali, ossia carta, pennarelli, pastelli, penne, nastro adesivo trasparente, poi da plastificare, applicare sopra una volta terminato tutto, e ovatta, cotone, imbottitura e ovviamente delle forbici per rintagliare. Guardate qui le Wagos, quella, la versione vecchia delle Wagos, che era la più bella, secondo me. Altre patatine. Sentite gli squish, come sono meravigliosi, i suoni. Un altro pacco che ho fatto di recente, le goria bianche. Le goria bianche. Ho disegnato anche l'orso polare, bellissimo. Fronte, retro, mi piace fare proprio tutto nei dettagli. Un'altra caratteristica, attenzione, che ho fatto è che ogni codice a barre che ci metto, vado ad inserire la data di quando lo faccio. Per esempio, vedete questo? Questo l'ho fatto il 26 giugno 2024. Così mi ricordo quando li ho fatti ciascuno di loro, ogni paper squishy. Altra cosa davvero interessante che ho riscoperto e che faccio spesso nelle mie live, o per ogni paper squishy, il suono di appiccicaticcio. Cioè, sentite qui, questo. Appiccicaticcio, cioè che fai un leggero suono con i polpastrelli delle dita ed esce questo suono di appiccicaticcio. Aspettate, andiamo a provare con un altro, ossia questo videogioco di The Sims 2. Fronte, retro. Guardate qui pure la cosa con la scritta laterale. Ecco, qui si sente ancora di più. Sono appiccicaticcio. Altre domande gettonate? Ma rivendi questi? Purtroppo non posso perché ovviamente sono marchi registrati, però mi piacerebbe molto. Oppure altre domande? Ma come fai a farlo? E quello è perché dipende proprio da una passione proprio fortissima che mi piace tantissimo fare queste cose. E poi vedo che piacciono molto anche gli altri. Come fare, ripeto, come fai a farli? Pure se ci sta un tutorial, ripeto, andate a vedere il tutorial Art Attack ASMR che ho fatto. E poi sto facendo questo video proprio perché il live me l'hanno sempre chiesto di fare, e perché non fai un video dove mostri tutti i tuoi paper squish? Ed eccolo. Finalmente sono riuscita a farlo. San Carlo, patatine. Guardate qui, guardate qui. Questo fatto a matita, questo con le pennarelli, mentre questo a matita, l'ombra, mi piace fare tantissimo le cose al meglio. E il retro. Come sempre la data che trovate qui ad ogni codice a bar. Andiamo avanti, questi sono sempre tra i più grandi che ho fatto. Un altro gioco. GTA Sant'Andreas. Bellissimo. Bellissimo. PlayStation 2 della nostra amata PlayStation 2 per i nati anni 80-90 appassionati come me se lo ricordano bene che hanno giocato a questi giochi nei primi anni 2000 oppure metà anni 2000. Questo è il 2004. Stupendo, stupendo, stupendo. Il mio preferito, forse in assoluto. fronte e retro. Ecco, sentiamo anche quel suono di appiccicaticcio. Ok, poi Coca Cola, lattina. Allora qui ve le voglio fare vedere tutte insieme perché subito dopo questa ho fatto Monsters che mi era super richiesta e poi anche Estate a Limone. Mi hanno richiesto molto anche la Red Bull che la farò sicuramente e fantastico. Queste qui le farò. Voi pensate che ci vuole veramente tanto tempo per farlo. Allora Estate a Limone guardate qui fronte retro la Monsters 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 fronte retro e la Coca Cola fronte retro da sentire il suono appiccicaticcio anche qui ma non è fantastico. Ok, altro tra i più grandi che ho fatto è questo Game Boy Golo. Ok, poi ve lo ricordate sempre i nati negli anni 80 negli anni 80 90 che ci abbiamo giocato nei primi anni 2000 e guardate qui ci ho fatto pure un gioco chissà qual è il mio preferito ovviamente dei videogiochi andiamo avanti Nutella anche questo era super super richiesto e finalmente l'ho fatto guardate qui inizialmente l'avevo disegnata io colorata io il colore della Nutella però faceva più un effetto legno allora ho comprato il collage sapete quei fogli che si comprono sottili con già colorati e l'ho messo e guardate l'effetto com'è più nutelloso molto molto meglio ecco prima era più così questo è quello che è rimasto che invece avevo fatto io però vedete era più invece così Nutella squishy guardate pure il disegno super dettagliato tutto fatto a mano tutto fatto a mano devo ammettere che però le scritte per farle identiche precise le ricalco le ricalco o dallo schermo che mi prendo l'immagine oppure direttamente dagli oggetti che ho solo così possono uscire super super precise e quasi perfette che si avvicinano tantissimo all'originale però altri elementi li faccio io a mano libera e comunque anche nel ricalcarli non è una cosa da nulla perché ci vuole molto molta attenzione anche se alcuni elementi li faccio io a mano libera come ad esempio questi 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 vari cose il codice a barre pure andiamo avanti un altro super azzeccatissimo in questo periodo è la fetta d'anguria che me l'hanno richiesta anche la pizza in realtà pure quella farò però quella ancora non l'ho fatta guardate qui l'anguria pure qua pure la bud mi è piaciuto tantissimo farlo qua ovviamente non essendoci il codice a barre le date ce le scrivo in alcuni spazi per esempio questo qui aspettate che mi metta fuori da sentire qui il suono appiccicaticcio super forte poi 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 come si dice il bicchiere del mcdonald's con dentro tanto di coca cola disegnata sempre colorata sentite pure qui sopra il microfono questo un suono meraviglioso fatemi sapere poi i vostri commentini che cosa ne pensate mi raccomando sono curioso di sapere tutto questo lavoro che ho fatto questo ecco per fare questo è stato bello complicato perché io l'avevo già quello originale e praticamente che ho fatto ho avvolto prima la carta a 4 una 4 un po' di a 4 semplice per prendere le misure esatte e dare anche la forma così di liscio e poi una volta preso ho iniziato a colorare ad applicare lo scotch e fare in modo che prenda bene la forma ed ecco qui il risultato finale bagno schiuma pitato 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 il solito codice parli con la data andiamo avanti questa è una semplice arancia però che ci è voluto per farla perché la forma rotonda è tra le cose più difficili da fare può sembrare anche una sfera del drago è vero anche quella voglio fare oltre che alla sfera dei pokemon i miei due cartoni animati in assoluto preferiti la mia infanzia la nostra infanzia ecco questo è un altro super richiesto ossia il l'iPhone 15 Pro l'iPhone più famoso al mondo la marca perché mi sono documentato scrivendo qual è l'iPhone più famoso il 15 Pro l'ho chiesto anche in live che volevano l'iPhone e io ovviamente ho detto ma quale modello volete ditemi più famoso e mi hanno detto che era proprio il 15 Pro Max mi pare che si chiama così affatti qui fronte 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 retro con tanti di con tanto di tastini quei laterali visto aspettate che me lo mette a fuoco ecco no no mettiamo a fuoco bene oh ecco e anche dietro la telecamera il logo qui ho usato praticamente la carta stagnola per fare quell'effetto argentato stupendo ora un'altra cosa che io faccio come trigger speciale cliccando qui oppure cliccando i tasti di accensione si può anche accendere ossia guardate qui ecco la schermata che io che ho fatto fatto in modo tale che si va a inserire questo questa schermata di accensione dentro proprio dell'iPhone ho messo una pellicola davanti ecco perché la vedete super e diventa acceso il nostro cellulare con tanto di applicazioni tutte le cose dell'iPhone lo schermo tutto fatto a mano interamente da me guardate guardate qui a proposito di iPhone ho voluto precedentemente a questo ho fatto anche l'iPod perché è una cosa che io veramente ho e nella realtà di quello di vecchia generazione però che ho amato tantissimo stesso concetto guardate qui un po' più piccolino però bellissimo poi Colgate insomma tutte le varie tipologie di prodotti dentifricio questo mi piace molto come è uscito soprattutto il colore qui guardate fronte retro vediamo ecco poi mi piace fare anche oggetti più banali quotidiani semplici come per esempio anche che non sono di vacca quest'uovo fritto qui mi avevano chiesto di fare l'uovo fritto ed è ancora qui prima o poi farò anche la padellina e squishy così lo mettiamo dentro diventa ancora più bello oppure ad esempio la ciambella ciambella ci ho fatto versione del buco invece vedete qua proprio bella elaborata ci ho sbruzzato il profumo così diventa proprio come gli squishy quelli classici reali insomma diciamo quelli comprati però è interamente fatto da mie guardate che bello cosa ho fatto io ho comprato una bustina dai negozi tipo per esempio Tiger queste cose qui che vendono tante perline perline di polistirolo piccoline sottili che io sono andata ad applicare qui ed incollare poi con la colla e poi rivestire sempre con lo scotch guardate qui che ne è uscito questa super ciambellina alla oversips proprio bellissima andiamo avanti oh si poi abbiamo questi andiamo sempre tra i più piccoli M&Hams 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 fronte e farò anche quello blu appena riesco retro che adoro tantissimo mi piacciono molto super soddisfatto di questi come sono usciti poi poi scatolino tav della saponetta da fronte retro e manco a farla apposta guardate qui anche la saponetta ho fatto sì ho cercato di prendere la forma da quella originale che già ho ovviamente sentite i suoni poi 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 Deodorante Neutro Roberts allora ho voluto prendere proprio il packaging quello più vecchio degli anni 2000 inizio anni 2000 perché 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 la mia carissima nonnina che non ci sta più da vent'anni utilizzava proprio questo identico e preciso infatti io ce l'ho conservato proprio per ricordo per affetto e quindi era proprio esattamente questo Neutro Roberts era così il packaging insomma la grafica degli anni 2000 anni inizio anni 2000 ed è bellissimo pure il suono che faccia sentite qui tipo la colla cioè stupendo infatti ho fatto anche la colla lo stick però quello piccolino farò anche magari uno più grande tipo la colla pret poi questo tronchi uno dei primi che ho fatto pure questo e che troverete anche nel tutorial di Heart Attack ASMR però non come si fa però il concetto è lo stesso delle patatine ecco qua ah sì sempre robe da mangiare fantastiche i gelatini squishy ma stavolta sono gelatini paper squishy ossia guardate questi guardate questo è stato il primo che ho fatto Magnum con la M di Magnum la stecchetta è veramente quella come se fosse quella vera perché le ho comprate sempre sempre in questi negozi che vendono cose tipo tiger e ce l'ho inserita guardate che questo è il fior di fragola è il lemonissimo e sempre tra i più recenti che ho fatto adesso c'è anche il cornetto algida guardate guardate qui con tanto di croccantini sopra disegnati sopra ecco qua in tematica estiva ci stanno ah questo secondo me è il più simile che è uscito in assoluto il più fedele proprio che sembra proprio realistico super repero il fazzoletti tempo o gempo come vogliono chiamarli però sono tempo perché in realtà questa è una t non è una j guardate qui cioè guardate qui anche sotto e va sopra questo cioè io questo secondo me è quello più uguale in assoluto che è uscito dai miei paper squish perché mi fanno anche queste domande dove chiedono qual è il più quello che ti è uscito più uguale eccolo qui il più bello no è più bello no perché ce ne sono tanti belli allora poi Kinder Bueno Kinder Bueno Kinder Bueno anche tra i più recenti oh da Chipirina voi guardate qui la scatola da Chipirina su poster l'ho fatta apposta così più divertente fronte retro scusate qui non ho fatto vedere fronte retro eh qua non me ne mette a fuoco però dai ok l'ho l'ovetto Kinder pure questo Kinder sorpresa il cellulare Nokia questo io veramente avevo questo questo è stato il mio primo cellulare in assoluto inizio anni 2000 fabbricato nel 2002 l'ho comprato nel 2003 guardate che bello così così il 3310 mi pare che si chiama poi ecco le gomme Big Bubble Big Bubble Big Bubble oh 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 ehi non me la mette a fuoco oh e dai vabbè Big Bubble Brooklyn Brooklyn Big Bubble e anche Vivident ho fatto ecco questi sono tra i più piccoli Paper Squish che ho fatto poi questo proprio non poteva mancare ossia ci ho lavorato tanto ossia le mitiche e deliziose patatine del McDonald's cioè guardate qui ho fatto sia la scatola fronte retro che è squishy squisciosa che le patatine stesse e poi ci ho abbinato il Big Mac il panino guardate qui che l'ho fatto pure di recente poi abbinato con questo qui diventa un menù completo il bicchiere magari pure un po' con la Coca Cola che stiamo a posto tra gli ultimi pure le carte napoletane guardate questo è stato molto impegnativo fare perché l'ho fatto proprio da zero da zero disegnato e persino la sorpresina delle Wacos che se si apre esce questo che avevo conservato che è reale proprio quello reale ma diventiamolo dentro costina vantana me tra i più semplici proprio il cuore che questo me l'ha chiesto proprio una mia cara moderatrice che saluto e abbraccio ciao Francesca e anche altri mi hanno chiesto comunque Big Bubble Big Bubble Big Bubble questo la gomma il confetto proprio della Big Bubble Big Bubble ed infine la tavoletta Willy Wonka Willy Wonka no 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 Gianlu Wonka Gianlu Wonka che ho utilizzato nella collaborazione con Enrico SMR andatela a vedere sul suo canale mi raccomando ed infine anche questa banana finita bene abbiamo terminato il video spero sia stato di vostro gradimento come sempre lasciate un like un commentino e condividete esprimendo pure quello che vi piace di questo video ciao a tutti e al prossimo video spero che vi siate anche rilassati ciao 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 Grazie a tutti.